Un esame di maturità, ancora purtroppo nel segno del Covid, della fase finale dell'emergenza sanitaria, rimangono in vigore i protocolli e anche le modalità dell'esame hanno risentito di questa situazione. Non vorrei che questo esame restasse per i ragazzi un esame di serie B, nel senso che gli restassero con lo cucito addosso l'idea di un esame più facile, facilitato, perché in realtà non è così, è un colloquio multidisciplinare, impegnativo, strutturato sulle materie di indirizzo e le materie generali, ovviamente, in cinque step. La prima parte sostituisce le materie di indirizzo, c'è un elaborato, per cui i ragazzi comunque hanno scritto, hanno prodotto qualcosa. Nella seconda c'è un'analisi del testo e quindi la letteratura italiana, anche per l'istituto, tra l'altro il nostro istituto, e perché è uguale per tutti, ovviamente, poi c'è il colloquio multidisciplinare e poi questa apertura verso cittadinanza, costituzione, educazione civica, che secondo me è fondamentale. E poi vorrei ringraziare le ragazze, ringraziare le ragazze perché hanno fatto, trascorso un anno difficilissimo, ma con un grande senso di responsabilità. La loro prova di maturità l'hanno già data, nel rispetto delle regole, nell'attenzione con cui sono comportati nei confronti dei genitori e degli anziani, la paura di contagiare. Io li ho visti rispettosissimi, ma la paura era perché pensavano ai più fragili e quindi la vera prova di maturità per me sono tutti promossi. L'esame di maturità è uno di quei passaggi fondamentali per la vita di ogni ragazzo. Qual è il suo augurio ai suoi studenti? Sì, sicuramente l'esame di Stato è un rito di iniziazione importante. Ho trovato un istituto con insegnanti estremamente tesi a dare il loro meglio e a far crescere questi ragazzi. Ora vedremo nella prova effettiva. Io credo che tutti i presidenti di commissione, tutti i commissari impegnati in questo esame terranno conto delle grandi difficoltà che gli studenti hanno dovuto affrontare in questi ultimi due anni della pandemia. Sono certa che tutti gli studenti daranno il meglio di loro e quindi, che dire, in bocca al lupo a tutti quanti.